Non dimenticare Iniziamo con un fuorilegge Anzi no, un eroe O meglio, un fuorilegge che è anche un eroe Come per incanto ci trasferiamo Nella foresta di Sherwood Vi dice niente questa foresta? Robin Hood! Il secolo Angeli inconsolabili Sono da sempre poveri Lo stanno Sono la freccia dell'umanità Versi patetici Senza poesia Pallini in palo Lo strade e città Algheri Dico le squalli Nella foresta Ho troppo? Ho troppo il poveri Pallini in palo Lo strade Per quel passo Lo strade Lo strade Con un fuorile Lo strade Il paleri Il paleri Il paleri Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono proprio tutti, c'è Marianna, c'è Frattac, c'è il re Giovanni, c'è il cattivo e naturalmente c'è lui, c'è l'impalido, irrefrenabile, Robin Hood alias Manuel Frattini. L'eroe, come dicevo, ruba i ricchi per dare ai poveri. Certo che di questi tempi non va proprio tanto bene. Beh, io incomincio con essere gentiluomo. Ciao, grazie per averci invitato. No, ci tengo a dire che questo è uno spettacolo per tutti, grandi, piccini, eccetera, perché credo che in questo periodo appunto... Guarda, intanto aggiungo una cosa, che siete a Roma fino al 29 marzo, grande successo, ci sono stati già dei grandi consensi, una critica importante, assolutamente positiva. Poi Montecatini, se non erro, Brescia, Genova... Genova, sì, andremo avanti fino al 10 maggio, ci sarà una ripresa l'anno prossimo, per cui chi non riuscirà a venire ora, verrà poi... In bocca al lupo! Robin Hood! E allora a questo punto, apriamo immediatamente il nostro librone della memoria. Ma sei vestito da prima comunione, maestro, quest'oggi, eh? Sì, dopo, da matrimonio, dopo un'ora, però, l'ora dopo. Beh, solo che più che Robin Hood mi ricorda il capitano Uncino, ma comunque, riapriamo dunque il nostro libro della memoria, come dicevo. Anche quest'oggi, al centro dell'attenzione, è la musica e sarete proprio voi a decretare la canzone più bella delle varie hit parade degli ultimi 40 anni, che hanno raccontato la storia del nostro paese. Domenica scorsa ha vinto, maestro? 1, 2, 1... È vera! Grazie, che classe è vera. È vera, Gianni Morandi, in ginocchio da te. 1, 6, 4, 7, 8, questo è il numero telefonico per poter leggere la vostra preferita. Anche questa domenica ci sono ben 10.000 euro in palio e allora iniziamo subito ancora 8 canzoni, ancora una gara agguerritissima che ci permetterà di riascoltare delle colonne sonore dei nostri sentimenti, della nostra vita e ad aiutarci in questa avventura. Saranno ancora una volta le straordinarie interpreti di Domenica Inn che accogliamo con un applauso.